Dopo 16 anni tornano i medici di base a Spianate. Sono infatti stati inaugurati in via Bruno Nardi i nuovi ambulatori degli studi medici pubblici, realizzati grazie a un gioco di squadra tra ERP, proprietaria dell'immobile, gruppo Frates di Spianate, amministrazione comunale e ASL, insieme con la farmacia comunale e l'hauser di Alto Pascio. Il servizio era stato chiesto a gran voce da residenti di Spianate attraverso una raccolta firme, circa 600, depositata in comune nel 2016, che metteva in evidenza come nella frazione più popolosa del comune mancassero da tanto, troppo tempo, i medici di base. E l'amministrazione comunale ha risposto, dando gambe e supporto ad una volontà nata dal basso e mettendo insieme tutti gli attori protagonisti di questa bella storia. Dopo lavori di ristrutturazione e di adeguamento della struttura, gli ambulatori sono pronti per accogliere i medici di base. Sì, finalmente, quella di oggi è una giornata importante, direi quasi storica, perché dopo un anno e mezzo di lavori, finalmente questi ambulatori vedono la luce, riescono a partire. C'è stato un grande lavoro dietro, un grande gioco di squadra, un'unione fra il comune di Alto Pascio, l'amministrazione, gli enti del terzo settore, la farmacia comunale ed ERP, che è la proprietà di questi locali. Questi locali sono stati completamente ristrutturati, quindi un investimento importante e adesso siamo finalmente pronti ad accogliere i medici di base che vorranno venire qui ed avvicinarsi alla cittadinanza.